Buona giornata da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di martedì quando l'anticiclone nord-africano invaderà tutto il centro-sud Italia e la Grecia con temperature elevate. Alla sud potremo toccare picchi estremi di 40 gradi. Invece una circolazione di bassa pressione tra la Spagna, la Francia e la Germania lambirà l'estremo nord-ovest con qualche temporale e temperature decisamente più sopportabili. Andiamo al dettaglio, nuvolosità, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche temporale però giungerà l'estremo nord-ovest durante il pomeriggio. Infatti nel dettaglio possiamo vedere zoom precipitazioni, colori blu contemporali su Francia, Svizzera ma a interessare in generale la catena alpina anche italiana e Valedosta, parte di Piemonte soprattutto tra Torinese, Biellese e Verbano. Nel dettaglio quindi una giornata di bel tempo su tutto lo stivale, attenzione a qualche forte temporale all'estremo nord-ovest e sulle Alpi centro-occidentali. Al sud giornata bollente, sull'Alta Puglia e la Sicilia potremo toccare anche punte locali di 40 gradi. Tutti i dettagli precisi, gli ulteriori approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.